bella a tutti ragazzi io sono il terrensino e benvenuti in questo è un nuovissimo video oggi vi farò vedere quanto sono forte, sono potente questo è della vecchia serie questo è di questa nuova questo è quello che e poi questo farà capite, l'avete visto, l'avete visto in intervento video però se non l'avete, se non l'avete visto andate a guardarvelo e beh, il prossimo livello abbassa è un duo, una nuova simponica, credo che è simponica però mi piace stalli, raro livello 17, quindi tra 5 livelli intanto, sbondiamoci a vedere eh, 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 eh racconti il micro use se lo potrei fare ma intanto prima di tutto iscrivetevi al mio canale attivate la campanellina per essere sempre aggiornati nei miei nuovi video e lasciate un like a questo bellissimo video e comunque scrivetevi qua sotto nei commenti l'hashtag di come vi chiamate oppure se non ci avete scaricatele che cosa è al macchino e se riesco a giocare con noi appunto anche fra di oggi lasciatemi l'hashtag di battle lanseroyale si chiama battle lanseroyale e intanto io mi fiondo e vediamo cosa mi capiterà ok io mi prendo il mio caro schettino intanto mi fiondo d'ammazzo si vuoi che mi si vuoi che mi fatti in cima di strada oh si aiuto lo chillo io lo chillo io lo chillo io lo chillo perché è lì lì c'è lì c'è lì c'è grazie andiamo mi continuo prendo il cittino a cargare la coordinazione per morire insieme è scusa ok ok raga manca poco per il livello 14 me ne mancano tipo 30 e 30 possiamo sbloccarlo magari con raccoglie le mitraglie ma è difficilissimo perché dobbiamo in verità prendere due minigam ma comunque quando caricherò il video io alla fine farò online sul battellanzo e quando farò beh il video di battellanzo ovviamente no 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 muori schifoso no muori che schifoso no muori sono muori schifoso no è un film intero lotta con questo ok, mi apposito qua intendo prendere il cazzo e voglio allungarlo se vedo no se muoio è per colpa starma fa chi vuol starma? l'arma fa ok, mi manca una partita, due e ho fatto ok e mi piondo eccomi qua ok buon'arma prese ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, questo qua non deve capire che non può sporare di fronte alla gente. Oh, questo qua non deve capire. Quanto shielde c'ha? Cavolo. Quaranta. Livello successivo. Nuova skin. Bene. E così non sarà più pelato. Non so se è raro. 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 Che foda. Ah, comunque oggi vi porterò un video di nuovo con Blobo 57. che è raro. Non so se 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 è raro. E ora è scappo. Per questo calconto. vorrei schifo se le stanno andando a piazza più lontano possibile manco un schiamigano meglio se vado e se vado eh sì mamma lui è lontano oh me è difficile ok lui sta arrivando però lui sta arrivando e lontano e lontano e lontano che mi pare che mi pare che mi pare che mi pare ok che mi pare che mi pare che è schifo aiuto che brutta persona mi ha deciso di ammazzare a me anche se c'era il mio compagno vabbè raga per questo video è tutto da strinzino un saluto ciao 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 ciao